Ciao ragazzi, vogliamo ricordarvi che è appena uscito il nostro album Fuck e potete trovarlo su tutti i digital store come iTunes, Spotify, Deezer, Google Play, eccetera. Oppure potete comprarlo sulla nostra pagina Bandcamp facendo un'offerta libera oppure gratuitamente. Ma ti piace la mia felpa eh? L'ho comprata su iTunes e Paul Music come il nostro album Fuck Mi raccomando è uscito il nostro CD, compratelo su tutti i social. Ricordatevi questo segno che è quello che è il nostro album che è uscito. Madonna che... Bepre! Fuck! 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 no 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 no